comunità e il regalo più grande che noi abbiamo oggi per questa comunità è avere Paolo Ferreri, segretario nazionale di Rifondazione Comunità. I compagni e le compagne che hanno parlato prima di me hanno già detto tutto e quindi vi hanno ampiamente convinto sul perché bisogna votare la lista di Giovanna Marano presidente per Libera Sicilia e votare la lista della sinistra unita perché questa è la nostra lista della sinistra unita alle elezioni. Io voglio solo aggiungere alcune riflessioni. La prima è questa, la Sicilia si dice sovente una terra povera, non è vero. La regione Sicilia ha un mucchio di soldi così come la Sicilia ha moltissimo patrimonio, ha bellissime città, patrimoni turistici, architettonici, una grande civiltà, una grande storia alle spalle. Noi vorremmo che questa ricchezza non continuasse ad essere usata da una classe politica per costruire favori e clientele ma vorremmo che quei soldi, quella ricchezza, quel patrimonio venga usata per permettere ai siciliani e alle siciliane a partire dai più giovani, dai ragazzi e alle ragazze per potersi costruire un futuro e decidere della propria vita.